mercoledì della seconda settimana di quaresima la stazione si trova nella basilica di santa cecilia questa chiesa una delle più venerabili di roma fu la casa dell'illustre vergine e martire di cui porta il nome il corpo di santa cecilia è sotto l'altare maggiore insieme a quelli dei santi valeriano tiburzio massimo e dei santi papi urbano e lucio tutti martiri raccogliere guarda misericordiosamente il tuo popolo signore ti supplichiamo e fa che coloro ai quali tu comanda di astenersi dalla carne possano anche cessare da ogni peccato per cristo nostro signore amen epistola lezione tratta dal libro di ester 13 8 17 in quei giorni mardoscia implorò il signore e disse o signore signore re onnipotente perché tutte le cose sono in tuo potere e non c'è nessuno che possa resistere alla tua volontà se decidi di salvare israele tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le cose che sono sotto il fronte del cielo tu sei signore di tutti e non c'è nessuno che possa resistere alla tua maestà ed ora o signore ora o dio di abramo abbi pietà del tuo popolo perché i nostri nemici decidono di distruggerci e di estinguere la tua eredità non disprezzare la tua porzione che hai redento per te stesso dall'egitto ascolta la mia supplica si misericordioso alla tua sorte e alla tua eredità e trasforma il nostro lutto in gioia affinché possiamo vivere e lodare il tuo nome o signore e non chiudere le bocche di coloro che ti cantano o signore nostro dio questa supplica che mardosha e presenta a dio a favore di un'intera nazione che era destinata alla distruzione rappresenta le preghiere che i santi dell'antico testamento hanno offerto per la salvezza del mondo la razza umana era in larga misura nel potere di satana che è figurato da man il re onnipotente aveva condannato contro l'umanità morirete di morte chi c'era che poteva indurlo a revocare la sentenza esteri intercedette presso assuero il suo signore e fu ascoltata maria si presentò davanti al trono dell'eterno dio ed è lei che per mezzo del suo diven figlio schiaccia la testa del serpente che ci avrebbe tormentati per sempre la sentenza quindi deve essere annullata tutti vivranno quel desiderio di vivere oggi abbiamo la chiesa che prega per i suoi figli che sono in stato di peccato trema nel vederli in pericolo di essere eternamente perduti intercede per loro e usa la preghiera di mardoshai ricorda umilmente al suo sposo divino che egli li ha redenti dall'egitto e con il battesimo ne ha fatto i suoi membri la sua eredità lo supplica di trasformare il loro lutto in gioia fino alla grande gioia pasquale lei gli dice o non chiudere le bocche di coloro che ti cantano è vero questi poveri peccatori hanno in tempi passati offeso il loro dio con le parole come con le azioni e con il pensiero ma ora non dicono che parole di umili preghiere per la misericordia e quando saranno stati perdonati con quanta fervore non canteranno a loro divino liberatore lo benediranno in canti di amore grato vangelo si quel del santo vangelo secondo matteo 20 e 17 a quel tempo gesù salendo a gerusalemme fece a pezzi i dodici discepoli e disse loro ecco noi saliamo a gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà tradito dai sommi sacerdoti e dagli scribi ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai gentili per essere deriso e flagellato e per essere crocifisso e il terzo giorno risorgerà poi venne da lui la madre dei figli di zebedeo con i suoi figli adorando e chiedendogli qualcosa chi le ha detto che cosa vuoi ella gli disse di che questi miei due figli possano sedere l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno e gesù rispondendo disse tu non sai quello che chiedi puoi bere il calice che berrò gli dicono possiamo e gli disse loro del mio calice infatti berrete ma sedere sulla mia mano destra o mano sinistra non è mio da dare a te ma a coloro per i quali è preparato da mio padre e i dieci che lo ascoltavano si commuovevano con indignazione contro i due fratelli ma gesù li chiamò a lui e disse voi sapete che i principi dei gentili la dominano su di loro e quelli che sono i più grandi esercitano potere su di loro non sarà così tra voi ma chiunque sarà il più grande tra voi sia il vostro ministro e colui che sarà il primo tra voi sarà il vostro servo proprio come il figlio dell'uomo non è venuto per essere ministrato ma per ministrare e per dare alla sua vita una redenzione per molti questo è colui che ha dato la propria vita per placare l'ira del re onnipotente e redimere il suo popolo dalla morte è gesù il figlio della nuova ester e il figlio di dio che si fa avanti per umiliare l'orgoglio di aman proprio nel momento in cui questo nostro perfido nemico si sta assicurando la sua vittoria e lì sale a gerusalemme perché è lì che si combatte la grande battaglia e lì predice ai suoi discepoli tutto ciò che deve accadere sarà consegnato ai capi dei sacerdoti che lo condanneranno a morte e lo consegneranno al governatore romano e ai soldati e lì sarà deriso flagellato e crocifisso ma risorgerà il terzo giorno gli apostoli udirono questa profezia perché il vangelo dice che gesù smontò i dodici per dire loro queste cose giuda di conseguenza era presente così erano pietro giacomo e giovanni i tre che avevano assistito alla trasfigurazione del loro maestro su tabor e avevano una conoscenza più chiara della sua divinità eppure tutti lo abbandonarono giuda lo tradì pietro lo rinnegò e tutto il greggio fuggì per paura quando il pastore era in potere dei suoi nemici nessuno di loro ricordò come avesse detto che il terzo giorno sarebbe risorto a meno che non fosse giuda che fu forse incoraggiato a commettere il suo crimine dalla riflessione che gesù avrebbe presto trionfato sui suoi nemici e sarebbe stato di nuovo libero il resto non poteva vedere oltre lo scandalo della croce che misero fine a tutta la loro fede ed essi abbandonarono il loro maestro che lezione per tutte le future generazioni di cristiani quanti sono pochi quelli che guardano alla croce né per se stessi né per gli altri come il segno dell'amore speciale di dio siamo uomini di poca fede non riusciamo a comprendere le prove che dio manda ai nostri fratelli e spesso siamo tentati di credere che egli li abbia abbandonati perché manda loro la croce anche noi siamo uomini di poco amore le tribolazioni mondane ci sembrano un male e pensiamo di non averle affrontate a malapena proprio nel momento in cui il nostro dio ci sta mostrando la più grande misericordia siamo come la madre dei figli di zebedeo terremo un posto alto e cospicuo vicino al figlio di dio dimenticando che dobbiamo prima meritarlo bevendo del calice che ha bevuto cioè il calice della sofferenza dimentichiamo anche quel detto dell'apostolo per essere glorificati con gesù dobbiamo soffrire con lui romani 8 e 17 egli il giusto per eccellenza non è entrato nel suo riposo con onori e piaceri il peccatore non può seguirlo se non percorrendo il sentiero della penitenza chinate il capo a dio o dio restauratore e amante dell'innocenza attira te stesso i cuori dei tuoi servi affinché infiammati dal tuo spirito santo siano costanti nella fede e zelanti nelle buone opere per mezzo di cristo nostro signore amen il poeta cristiano continua la sua materia i meriti del digiuno oggi ci mostrerà come gesù la consacrata praticandola da solo ma perché dare esempi tratti dalla vecchia legge gesù che il profeta aveva annunciato al mondo come l'emmanuele cioè dio con noi quando qui sulla terra condivideva le miserie della nostra mortalità digiuno rigidamente per amore nostro era lui che per la severa legge della virtù ha liberato questi nostri corpi dalla loro naturale i femminasi e dal gioco dell'indulgenza sfrenata egli emancipò le sue creature dalla loro schiavitù conquistò la concupiscenza tirannica che aveva regnato fino ad allora si ritirò in un luogo deserto e per 40 giorni rifiutò l'uso del cibo con questo digiuno salutare ha rafforzato la debolezza dei nostri corpi che bramano la gratificazione il nemico si chiede dentro di sé come un corpo fragile cioè solo argilla possa sopportare e soffrire dolori così lunghi e taglienti come questo egli con astuto mestiere inventa un complotto per cui setacciare questo gesù e vedere se forse è dio in forma umana ma rimproverato e sventato fugge via con vergogna uguale 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 questo testo è tratto dall'anno liturgico scritto da don prosper gueranger